Quali strategie aiutano i piccoli editori a raggiungere i propri lettori sul web? Come si progetta un giornale locale su una piattaforma multimediale? A queste e ad altre domande sull'informazione del territorio, ha cercato di rispondere il convegno tra la carta e il web, organizzato dal Consiglio e dalla Giunta regionale con la Federazione Italiana Piccoli Giornali. Le progressive trasformazioni tecnologiche sono state al centro della comunicazione dei relatori. Il dibattito è poi proseguito con una tavola rotonda tra editori e direttori di testate locali piemontesi. Come si realizza la rassegna stampa al tempo del web? La rassegna stampa si realizza automaticamente grazie al sistema che è stato finanziato dal Consiglio regionale del Piemonte. È un sistema che ha un motore di ricerca attivo già fin dalle prime ore del mattino che grazie alle edizioni digitali dei periodici che vengono trasmessi direttamente dagli editori locali giorno per giorno permette all'utente di consultare le notizie appena arriva in ufficio. Noi abbiamo modernato la nostra comunicazione istituzionale del Consiglio con le nuove tecnologie. Abbiamo un grandissimo patrimonio di donne e uomini che collaborano con noi, altri sono aggiunti in questi anni, quindi il prodotto della comunicazione nostra è di qualità. Lo mandiamo nelle famiglie, le famiglie, la società con le nuove tecnologie, anche attraverso il nostro sito, streaming e quant'altro, però anche con le pagine dell'editoria locale, dei nostri settimanali locali in Piemonte, vogliamo entrare nelle case perché ci sono soprattutto per esempio gli anziani, ma non solo, che hanno ancora il gusto e il piacere di leggere questi giornali e la nostra editoria locale è un patrimonio, è questo il senso della mia presenza e del mio saluto, che non dobbiamo disperdere ma che eventualmente dobbiamo contribuire ad ammodernare a lato degli editori e di chi lavora nei giornali che stanno facendo grandi sacrifici in un momento di crisi economica devastante.